Al Via Accendiamo il Medioevo, quest'anno 13 comuni del Pescarese che hanno aderito, festival contemporaneo e aderrante tra eremi, borghi, torri e campanile, organizzato dall'Associazione Culturale Sceppa Pescara Tutela, direttore artistico Licio Di Biase. Tanti i volti noti della cultura che visiteranno e saranno protagonisti di questi bellissimi borghi. Sì, l'idea di fondo è che la nostra regione è ricca di questo immenso patrimonio medioevale, un patrimonio non valorizzato, non tenuto in considerazione, quando invece potrebbe essere un piccolo volano per il turismo e la valorizzazione culturale. Abbiamo invitato tantissimi personaggi, da Vittorio Sgarbi a Mario Tozzi, da Michele Placere a Enrico Vanzina, Federico Moccia, non voglio fare torta a nessuno, Sanna Casale, insomma tantissimi artisti che in ognuno dei borghi, dei comuni scelti, delle location scelte, saranno protagonisti di una serata. Ma poi intorno a questi personaggi ci saranno altri eventi, a Compagnia di Canto Popolare, ci sarà lo spettacolo Matrimonio Medioevale, insomma e tante altre iniziative per far conoscere questo patrimonio. Nel rispetto delle misure Covid si riscopre questo turismo così particolare, il turismo dei borghi? Ovvio che noi utilizzeremo tutte le attenzioni, le giuste attenzioni che la normativa prevede, quindi dalle prenotazioni al distanziamento sociale, per cui noi abbiamo voluto quest'anno, ugualmente dopo lo scorso anno, la prima edizione, fare questa edizione per non perdere il ritmo che abbiamo dato a questa iniziativa, però nel rispetto alla normativa anti-Covid. Ricordiamo, le date ne sono tantissime. Iniziamo il 7, 8, 9 e 10 agosto da Rocca Caramanico e finiremo il 26 e 27 settembre a Spoltore, quindi diciamo che dopo Rocca Caramanico ci sarà Penne, Tocco la Casauria e tutto il mese di settembre nei fini settimana ci saranno uno o addirittura due comuni in cui terremo questi eventi.